Ciao ragazzi e ragazzi bentornati nel canale e anche oggi grattini misti allora abbiamo il super 7 e mezzo, numeri fortunati, un tutto e per tutto e la battaglia navale allora iniziamo subito con il super 7 e mezzo ok oggi grattiamo con la molettina da 5 centesimi allora vediamo il banco, 2, 1 e 3 quindi dobbiamo superare il 6 allora prima giocata, mezzo, 4 e mezzo, niente qui abbiamo fatto 5, seconda giocata, mezzo, un 2 e un 3, 5 e mezzo niente, nemmeno qui allora qui dobbiamo fare 7 e mezzo vediamo le super carte il mezzo ce l'abbiamo il 2 qui ci vorrebbe un 5 vediamo, niente ragazzi niente di fatto, questo biglietto è perdente vediamo con i numeri fortunati vediamo subito ok allora abbiamo 80 eccolo qui abbiamo già preso la prima colonna poi abbiamo il 49 eccolo qui abbiamo il 70 70 eccolo qui l'ultima colonna 28 qui poi abbiamo il 39 eccolo qua il 36 no questo non ce l'abbiamo il 74 il 74 74 non c'è il 38 38 nemmeno 59 59 59 non lo vedo il 34 34 eccolo qui continuiamo 42 42 niente 55 eccolo qui ultimo numero dell'ultima colonna 75 eccolo qua continuiamo con il 26 26 26 non c'è 40 40 eccolo qui e infine 32 che non c'è allora grattiamo il premio sicuramente stanno a 3 euro eccoli qua 3 euro va bene ci siamo ripagati il grattino continuiamo con il tutto e per tutto ok allora 28 24 33 21 e 13 ok allora iniziamo 35 niente 21 abbiamo preso il 21 ok continuiamo 39 niente 16 niente 11 niente 44 non c'è 32 niente c'è il 33 19 19 niente 34 no 22 nemmeno 43 niente e infine il 46 niente quindi vediamo il premio del 21 10 euro ok e adesso vediamo il moltiplicatore per per 5 abbiamo vinto 50 euro qui bene benissimo sono contentissima ok adesso ci vuole il like va bene allora battaglia navale adesso aggiustiamo un attimino ok allora iniziamo con le coordinate D1 D1 barca pezzo di barca H2 acqua A5 pezzo B1 acqua A3 poi abbiamo F1 pezzo E5 abbiamo un altro pezzo C3 C3 questa è quella mastodontica C7 pezzo e infine D5 D5 1,2,3,4,5 qui ragazzi questo biglietto è perdente per il momento adesso dobbiamo ridottare la griglia e vediamo se troviamo lo scrignetto però però qui lo scrignetto non si vede va bene ragazzi questo biglietto è perdente allora ragazzi qui abbiamo vinto con il tutto e per tutto abbiamo preso 50 euro con il 21 10 euro per 5 e qui 3 euro quindi abbiamo vinto 53 euro su una spesa di 5 10 16 16 euro va bene ragazzi sono molto contenta e se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale un abbraccio e un bacio ciao alla prossima ragazzi grazie Grazie.